Tre giorni fa abbiamo proposto candidato la Sicilia quale luogo di accoglienza per i profughi costretti a lasciare l'Ucraina sotto le bombe della Russia di Putin. Alcune ore fa il capo della protezione civile nazionale, l'ingegnere Curcio, ha firmato l'ordinanza con la quale il presidente della regione, ma vale anche per le altre regioni, diventa responsabile della organizzazione per l'accoglienza. Lavorerò naturalmente d'intesa con i nove prefetti, con tutte le istituzioni che vorranno adoperarsi in questo senso, con gli enti locali. Per quanto riguarda la Sicilia abbiamo già dato la disponibilità alla Croce Rossa di arrivare farmaci in Ucraina, mentre abbiamo immaginato di mettere a disposizione in Sicilia un certo numero di posti letto nelle strutture sanitarie, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Siamo pronti a questo ulteriore gesto di generosità in una terra che è stata sempre culla di accoglienza e di solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra parte nella speranza che questa assurda guerra possa presto concludersi con il buonsenso della diplomazia. A noi resta soltanto la possibilità di pregare Dio perché avvenga presto.